No, guarda, lo stava caricato tutto, adesso mi lascia qualcosa giusto. Quanto vuole, quanto ci vorrà? 40-45 minuti. Bella, facciamo mezz'ora. Un momento storico, prima di riprendere altri contro il suono. Guarda che bello che è. La storia, le stava caricato tutto il suono. Guarda che bello, quanto ci sono? Sì. La storia storica, la storia storica, la storia storica. Centotrice, la storia oltre, sto solo con la storia. Ciao Palermo, in fine arrivammo Mi riprenda il cielo, però No, quello no Tra mezz'ora siamo sul palco, ragazzi, ho le orecchie tappate, non capisco un cazzo Si è deciso cosa si fa allora? La scaletta come cazzo è? La chitarra non ci fa Cosa? Cosa fa altro? Allora vediamo Forse no Ma lo sai che dobbiamo correre? Se lo devo fare Minchia Pronti minchia, pronti la roba buona Su mi su, su mi su Perfetto Ciao 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 Le chitarre, le chitarre, passagli le chitarre Solo una, solo una Ciao 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 Grazie a tutti